Al via i lavori per la realizzazione del sottopasso di piazza Don Leoni, oggi le prime opere di cantieramento, lunedì i primi scavi che riguarderanno le bonifiche belliche e il lavoro sulle tubature dell'acqua. È un lavoro importante, ricordo che sono 15 mesi di cantiere. Il progetto di fatto prevede la realizzazione di un sottopasso, è un sottopasso collegato da una parte e dall'altra con degli impianti elevatori, quindi gli ascensori. A fianco degli impianti elevatori sono delle scale e il sottopasso permette di collegare in assoluta sicurezza la stazione da una parte con il centro storico e ovviamente il lato di piazza, lato albergo bianchi e dall'altro. Ma non è solo un progetto del sottopasso, è in realtà un vero e proprio progetto di riqualificazione di un'intera area, infatti verrà recuperata l'intera piazza. Ecco, allora in marciapiedi più larghi la ciclabile che collegherà Pradella e Viale Pitentino, nuova illuminazione, nuova pavimentazione, nuovo arredo e nuove alberature. Un progetto veramente molto bello che riqualifica tutta l'area, che è un'area importante perché ricordo che anche il primo accesso e la prima vista che si ha della città perché scende dal treno e arriva in città. Quattro le fasi dei lavori, da lunedì la prima fase, lato stazione. La fase 1 riguarda il cantiere lato stazione, la fase 2 il cantiere si sposterà dall'altra parte della strada, nelle fasi 3 e 4 poi si rifaranno tutte le opere complementari di riqualificazione della piazza.